La storia di un redondo tecnico che assomiglia molto a Pasolini e che viene coinvolto in una produzione di un film proprio su Pasolini, dove lui fa ovviamente la parte dello scrittore. Da questa proposta lui inizia una ricerca su Pasolini, perché si sente Pasolini, perché lo deve interpretare, e cerca di avere un dialogo con Pasolini. Il problema è un po' della stessa sequenza dei registi. Stefano Pitti e Alberto Testone. Alberto Testone è il personaggio stesso. Quando un personaggio è anche il registro di se stesso, già nasce un problema. Io non ho mai trovato una situazione del genere in cui un problema non si ponesse. Nel senso che il personaggio a quel punto diventa un registro di se stesso, o almeno un co-registro di se stesso, e manca poi un po' quella distanza critica. In questo caso, diciamo, fra Testone e Pasolini c'è veramente un abisso. La ricerca che lui fa su Pasolini, la mia impressione è che non riesca a scalfire neanche lontanamente la figura di Pasolini, per cui tutto risulta un po' velleitario. Il racconto spesso è anche frammentario. Alla fine risulta qualche cosa che forse è sotto le aspettative anche del regista. Questa è stata la mia sensazione. Rimane l'idea, che è bella, l'idea di un odonto tecnico che interpreta Pasolini e cerca di capire chi era questa persona che non aveva mai avuto modo di conoscere. Questa è stata una bella idea. Il risultato probabilmente poteva avere un esito diverso. Ha come protagonista Alberto Testone, che è un uomo che rassomiglia a Pasolini e quindi ha la fortuna, sfortuna, comunque la fortuna, perché a lui piace sicuramente molto il teatro, il cinema, lo spettacolo, di interpretare Pasolini. Questo è il pretesto della narrazione e per me è, come dire, la parte debole e la parte forte, perché da una parte effettivamente questo personaggio rassomiglia a Pasolini, dall'altra parte ti rendi conto come la forma in realtà non ha nulla a che vedere con lo spirito e in alcuni momenti questa cosa diventa un pochettino grottisca. Però, mentre c'è questo sviluppo, cioè di un Pasolini vero e un Pasolini falso, in realtà è il pretesto per raccontare, secondo me, la periferia, i luoghi di Pasolini. E da quel punto di vista il documentario mi ha dato, come dire, un sentimento, un racconto di una comunità che forse è la comunità che Pasolini ha amato, ha raccontato. E quindi, diciamo, abbandonando il personaggio centrale, quasi lo sfondo, per me diventa più emozionante del protagonista. Fatti Corsari è un film concentrato intorno a un personaggio, Alberto Testone, che ha anche corealizzato il film, forse una corealizzazione per certi aspetti un po' inevitabile, visto che è un film totalmente costruito su questa sua ossessione di portare in scena Pasolini. In questo caso direi che forse una maggiore distanza rispetto all'ossessione ci avrebbe permesso di costruire il personaggio con più nuance, con più sfumature, dandoci anche quel fuoricampo che a volte intuiamo e che non sempre però risulta evidente. E così il rischio è poi farne un po' un personaggio a tutto tondo che sconfina talvolta in un neurotico pieno di tic.